Dopo tre anni difficili per Ducati nelle corse, l'anno scorso abbiamo accettato una sfida che era quella di fare un turnaround della nostra organizzazione. Ovviamente avevamo bisogno di fare alcuni cambiamenti importanti. Quello principale ovviamente è stato l'arrivo di Gigi Dalligna come direttore generale di Ducati Corse e direttore tecnico. Ma abbiamo fatto anche altri cambiamenti all'interno dell'organizzazione, sia in quella del reparto Corsa a Bologna, anche in quella del team e a questo proposito mi fa piacere poter dare ufficialmente benvenuto a Davide Tardozzi che dopo tanti anni in Ducati e tante vittorie è tornato a casa, quindi con un ruolo importante, quello di team supervisor si occuperà della parte organizzativa e logistica della squadra. Dicevo abbiamo fatto questi cambiamenti perché sappiamo che abbiamo degli obiettivi importanti davanti e quindi pensiamo adesso di aver creato un gruppo di persone unite con lo stesso obiettivo che sanno di avere un compito davanti molto impegnativo ma sanno anche di avere tutte le risorse necessarie per ottenere i risultati che noi ci aspettiamo. Sicuramente i risultati di questi test invernali, i due test di Sepang e il test di Phillip Island sono stati molto promettenti, chiaramente non ci facciamo eccessivi entusiasmi perché si tratta pur sempre di test e bisognerà vedere poi come riusciremo a comportarci in gara, sul passo di gara, però sicuramente un inizio positivo, il lavoro che è stato fatto incomincia a dare i suoi frutti, quindi speriamo e crediamo di aver preso la direzione giusta nello sviluppo della moto sotto la guida dell'ingegner Dalligna e ripeto sappiamo che il compito che abbiamo davanti è ancora molto impegnativo ma siamo tutti motivati per riuscire ad arrivare dove pensiamo Ducati si meriti di essere. Per Andrea Dovizioso è il secondo anno in Ducati, sicuramente Andrea ha vissuto con noi una stagione molto complessa lo scorso anno e ci fa piacere vederlo sorridere adesso dopo i risultati di questi test perché anche lui ha capito che siamo riusciti a individuare la strada da seguire per portare la Ducati a migliorare la propria competitività. Cal Cracciolo che peraltro è stato compagno di squadra in un team diverso di Dovizioso nel 2012 è un pilota molto aggressivo, un pilota con un carattere sicuramente molto combattivo pensiamo che sia Cal che Andrea troveranno una squadra pronta a supportarli al 100% e che sia la migliore combinazione possibile per un team come il nostro che ha bisogno di continuare a crescere e continuare a fare dello sviluppo durante la stagione. È difficile adesso poter rispondere a questa domanda, sicuramente ci possiamo aspettare il massimo impegno da parte di tutti, da parte dei tecnici, da parte dei piloti e da parte di tutta la squadra per proseguire nel buon lavoro che ci sembra di aver iniziato all'inizio di questa stagione ovviamente il campionato è estremamente difficile, ci sono dei concorrenti che sono già a un livello di competitività molto elevato, ci sono dei piloti eccellenti, ripeto noi pensiamo di aver messo in piedi quello che serve per riuscire a colmare il gap con i primi piloti in classifica ma ovviamente ci vorrà del tempo prima di riuscire ad arrivare a poter competere per il podio. In realtà l'anno scorso il nuovo regolamento che è stato pubblicato alla fine di ottobre prevedeva che nella MotoGP i costruttori potessero scegliere due opzioni, opzione factory per un massimo di 4 piloti e un'opzione open che in realtà consentiva una maggiore libertà dal punto di vista dei consumi e del numero di motori a disposizione durante la stagione, è ovvio che per un'azienda come la nostra per un team come il nostro che deve colmare un gap rispetto ai suoi concorrenti principali il fatto di poter continuare a fare sviluppo durante la stagione è sicuramente vitale per poter ottenere i risultati che vogliamo, quindi abbiamo fatto una serie di valutazioni molto approfondite e alla fine abbiamo ritenuto che l'opzione open fosse quella più in linea con le nostre necessità, come ripeto abbiamo bisogno di continuare a sviluppare la nostra moto durante la stagione